Il pronto soccorso dell'ospedale di Nola dice addio alle code e con esse ai frequenti litigi tra pazienti e familiari e tra questi il personale sanitario ed infermieristico. Un nuovo software di gestione del flusso è entrato in funzione al Santa Maria della Pietà. Ha come caratteristica principale quella di rendere immediatamente comprensibile e trasparente la situazione ai pazienti in attesa attraverso monitor dedicati nel rispetto assoluto della privacy. Siamo partiti ormai da circa 20 giorni con il sistema di gestione delle code. È un sistema per noi importantissimo, ancora di più per l'utenza, perché in questo modo il paziente una volta registrato all'infermieria del triage riceve un foglio dove oltre ai suoi dati generali c'è il suo numero di accettazione, c'è il codice che ha ricevuto al triage, soprattutto il tempo di attesa stimato sulla media delle ultime ore per il suo codice e in più c'è un identificativo con cui verrà chiamato per rispettare la sua privacy a visita della sala opportuna. Al momento dell'accoglienza l'infermiere rilascia all'utente o ai suoi familiari un foglio su cui è scritto il suo codice che stabilisce la gravità delle condizioni e dunque la priorità di accesso alla visita. In grande evidenza è riportato il numero con cui il paziente sarà chiamato. Il paziente aspetta finché non compare sul monitor posizionato in sala d'attesa il suo numero e l'ambulatorio dove verrà visitato. La procedura di triage ha lo scopo di definire le modalità di accoglienza, approccio e valutazione delle persone che arrivano al pronto soccorso per garantire l'omogenità delle azioni assistenziali. Questo sistema oltre a gestire le chiamate ci permette di grossa utilità sia per noi che per i familiari perché queste informazioni vengono anche riportate in maniera del tutto senza nessuna violazione della privacy sui due schermi. Uno è posto nella sala d'attesa dei familiari e un altro nella sala d'attesa dei pazienti triaggiati dove ci sono due tipi di informazioni. Uno lo stato attuale del pronto soccorso con il numero di pazienti presenti divisi per codice colore e con i tempi di attesa stimati e un altro dove vengono riportati le iniziali semplicemente del paziente il sesso e il numero identificativo che ovviamente è conosciuto dal paziente e eventualmente dai suoi familiari con l'età anagrafica, cioè 50 anni, 48 anni, dove il familiare che è in attesa può dedurre lo stato del suo paziente nel senso è in attesa di essere visitato, è stato visitato oppure è in attesa di eseguire esami è in attesa di ricovero o di dimissione. Questo permette sicuramente nell'ambito della trasparenza ma soprattutto del comfort per i familiari di avere essere sempre aggiornati sullo stato e quindi del paziente, del familiare che è all'interno del pronto soccorso. Il sistema di gestione delle code interpreta i dati dei processi lavorativi e li rende disponibili all'utente attraverso strumenti attivi ed interattivi. La combinazione di queste due tipologie di informazioni ha un doppio beneficio. Da un lato alleggerisce il carico di lavoro degli operatori di triage il punto di contatto più delicato con il pubblico. Dall'altro informa in tempo reale gli utenti coinvolti sulle attività in corso aumentando così una percezione di coinvolgimento con la struttura. Per noi è importante perché crea un clima di distensione, di trasparenza e quindi sicuramente all'infermire del triage verranno meno tutte quelle pressioni dei familiari per sapere lo stato, a che punto si è e quindi sicuramente una maggiore tranquillità in emergenza è fondamentale per lavorare tutti quanti più tranquilli. Con questo sistema l'utente e i familiari dell'utente si rendono immediatamente conto dei tempi di attesa, di quante persone stanno in visita e qui non c'è più quel caos che veniva a verificarsi nei tempi passati. Sugli schermi compaiono in automatico due schermate informative generali. La prima illustra i codici colore del triage, la seconda invita l'utenza a portare sempre con sé la tessera sanitaria. In quest'ultimo caso si tratta di una vera e propria campagna di sensibilizzazione. L'installazione, a breve, dei lettori di tessera sanitaria consentirà una registrazione estremamente facile ed automatizzata, eliminando anche i possibili errori di trascrizione dei dati anagrafici. A queste due informazioni si aggiungono anche due campagne di informazione di sensibilizzazione. Una è sulla spiegazione dei codici di triage, che qualcuno potrebbe non conoscere. Quindi vengono spiegati il codice rosso, il codice giallo, il verde e il bianco. Ma c'è un'altra in cui l'azienda ha creduto tantissimo, la campagna di sensibilizzazione su portare sempre con sé la tessera sanitaria. Perché? Perché a giorni abbiamo già acquistato il lettore di beige. Noi potremo evitare tutti quegli errori, ma ridurre anche allo stesso tempo i tempi di registrazione dei pazienti. Perché basterà la tessera sanitaria per registrare tutti i dati anagrafici in esso contenuti, quindi evitare tutti qualsiasi errore di compilazione. Ma soprattutto per il familiare che magari non ricorda, è veramente una sofferenza, in quel momento suo di agitazione, dover fare uno sforzo mnemonico oppure essere obbligato. Purtroppo senza a volte alcuni dati, come il luogo di nascita, non può andare avanti il sistema, si blocca, non può creare una cartella. Invece in questo modo avremo risolto gran parte dei problemi. E questo è un sistema che ci permetterà di ottimizzare non tanto il lavoro, ma anche il rapporto con l'utente che si avvicina al pronto soccorso per stato di necessità. In una fase successiva, appena l'applicativo sarà regime in tutti i presidi dell'Asla Napoli 3 Sud, è prevista la possibilità, sul sito aziendale, di monitorare lo stato di affollamento di tutti i pronto soccorso in tempo reale con i rispettivi tempi di attesa. Questa prova che noi stiamo facendo è partita dall'ospedale e quindi sicuramente verrà anche implementato, come ci ha promesso il nostro direttore generale, con gli atti di pronto soccorso dell'Asla Napoli 3 Sud e si potrà anche da remoto o con un palmare o andando sul sito dell'Asla Napoli 3 Sud vedere lo stato attuale di tutti i pazienti che sorsono nei vari pronto soccorsi. All'integrazione di quello che ha detto prima il dottore Manzi sulla estensione di questo progetto agli altri ospedali, l'ospedale di noi è servito un po' da ospedale pilota, anche perché grazie alla nostra direzione strategica il sistema è stato reso flessibile. In che senso? Abbiamo avuto all'inizio alcune osservazioni fatti proprio dal pubblico cittadino, dai familiari. Il sistema è stato pronto a tutte le modifiche che erano ritenute utili, dalla chiamata vocale, al tono della voce, al volume, al numero nosografico in cui chiamare il paziente, che deve essere più breve. Quindi tutti i sistemi di miglioramento che vengono suggeriti, vengono subito recepiti dall'organizzazione e dall'azienda, e fatti propri. E questo proprio per cucire un vestito in maniera sartoriale, proprio al servizio dell'utenza, in modo da ottimizzare nel modo migliore possibile tutto il sistema. Oltre al software per la gestione delle code, è importante evidenziare come al Santa Maria della Pietà di Nola sia in funzione, già da diverse settimane, l'osservazione breve. L'osservazione breve è, diciamo, sono delle stanze dove noi, generalmente, mettiamo dei malati che hanno bisogno di un'osservazione breve proprio, di 6 ore, 12 ore, per poter fare diagnosi e per poi dimetterli. E ci permette di non intasare ulteriormente la medicina di urgenza con ricoveri impropri, diciamo. All'interno del lobby riveste un ruolo fondamentale la cosiddetta stanza dell'isolamento, dove nelle scorse settimane sono stati gestiti efficacemente alcuni gravi casi sanitari. In questa stanza, chiaramente, vengono posizionati tutti gli ammalati con un sospetto o di meningite o di qualche altra malattia infettiva. Come si è verificato anche in questi giorni, nei giorni scorsi, il caso della ragazza della meningite che poi è stata portata a Corugno, abbiamo in 4 ore stata fatta diagnosi di meningite e trasferita a Corugno, come è stata fatta diagnosi e trasferita, purtroppo, e deceduto dell'insegnante di 47 anni di giorni scorsi. È una stanza importantissima perché ci consente di isolare i pazienti di sospetti di malattie infettive. In questa stanza abbiamo attrezzato in modo tale anche un carrello di emergenza e procedure chirurgiche, in modo tale che, come ha detto prima il dottore Manzi, non solo di poterlo trattenere qui il paziente con sospetta malattia infettiva, ma anche di applicare delle procedure diagnostiche e anche terapeutiche senza contaminare gli altri reparti. Dalla radiografia, che usiamo qua i portatili, alle procedure come puntura lombare oppure altre procedure, in modo da evitare qualunque contagio degli altri reparti o servizi del presidio ospedaliero. Gestione dei tempi di attesa, osservazione breve, senza dimenticare l'inaugurazione nel gennaio scorso della rianimazione e l'attivazione delle nuove sale operatorie. Sembrano appartenere ad un passato ormai lontano le immagini dei pazienti adeggiati a terra al pronto soccorso di Nola. Immagini che destarono clamore, oltre che rabbia e indignazione, oggi sostituite da un quadro differente, caratterizzato da efficienza, concretezza e innovazione.